Benvenuti nel tredicesimo episodio di Spyro the Dragon, io sono Monkey di Andre e oggi andiamo a fare il nuovo mondo che ci sta aspettando Il mondo degli stregoni appunto Andiamo Andiamo con la nostra mongolfiera e abbiamo 3000 diamanti per ora Wow Allora siamo tipo in montagna Con le cime innevate Allora intanto guardiamo subito se qua sotto c'è qualcosa Non mi pare di vedere nulla Tra l'altro io mi sporco così ma serve a poco Guardiamo come al solito i punti abilità se ce n'è da prendere Ok no non ci sono punti abilità da prendere Io non avevo visto la pozza d'acqua Meno male che sparsi Ma di nuovo Boh vabbè sarò ubriaco adesso Non so che dirvi allora stavo guardando lui stavolta Ma siamo già quasi morti Siamo morti Allora ok ero poco concentrato Andiamo a rincorrere subito il nostro amico che inizia a girare e ci fa Oddio Dove è finito? È salito? Faccio un passaggio di qua io non l'ho visto Ah no non è proprio salito da sopra Va bene allora lasciamolo lì che tanto non possiamo salire da là Guardiamoci intorno E stavolta ti do una bella testata Eh Non mi farei due volte Ok Questi imbecilli che abbiamo sconfitti Sta roba da bruciare no Ok abbiamo già provato il primo drago Ah mi sono dimenticato di fare la solita cosa Di andare a guardare quali sono gli obiettivi del livello 300 gemme 3 draghi e 2 2 uova addirittura Oh wow Quindi ci sono 2 di quegli idioti Allora liberiamo il primo drago Vediamo chi Allora Cosmos E Wanda dov'è? Non è che corne che ho Voglio che tu liberi i draghi Grazie Sì E recuperi le uova da quei molesti ladri blu Basta Nient'altro Voglio 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 Va bene Tanto lo diversamento non possiamo fare Che fastidio il tipo Mio dio Allora No Ci ha alzato il muro Ma chi è stato? Allora intanto ricordatevi Questi qui dovete bruciarli E saltare per prendere la gemma Questi qui dati più volte fuoco Ma chi è che se la ride Quello dio Ma che problemi ha? Hai prude Non so se lo sentite È fastidiosissimo Ma come fai a mancarlo ogni volta? Allora lui stava alzando una piattaforma qua Sì ma Qui devi averlo abbassato Ma che fastidio Ah boh Cioè è proprio una roba fatta apposta Lì si diverte Va bene E noi due testate Te vediamo subito Allora Crinale alpino Ok questo qui magari è il livello che faremo subito dopo Questo video Tanto se vado di là Mi alza di nuovo il muro Se mi mette a ridere un'altra volta Visto che mi dà fastidio Lasciamolo lì per ora Oh È anche ora Così facciamo riprendere Sparks Basta Con questi che ridono Allora vediamo Dove corre questo Io corro stretto E ti prendo subito stavolta Ma subitissimo 1,2,3,4,5,6 uova prese finora Ma che pirla Era tipo qua sotto Guarda 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 che sbaglio Che se la ride così Ma che cavolo ride E muori Più che altro L'altro lo dovevano lasciare in vita Che aveva alzato il terreno Anche lui Oh vabbè Sparks di nuovo verde Da qua Dobbiamo volare da qualche parte Secondo voi Non ci dimentichiamo Che poi c'è quello lì Con le uova di là però Vabbè Noi Adesso andiamo di qua C'è l'idiota che se la ride Ah qui probabilmente Si Velocizzerà la mia corsa Allora Liberiamo il secondo grado Grado Che c***o Zantor Vedi delle frecce così Carica seguendo nella direzione Per una super carica Super carica Super carica Sì Provaci Ok perfetto Vediamo se qua dietro c'è qualcosa No Come si Ah ci sono le gemme però Si chiama caverne sospese Va bene Allora carichiamo Il tipo sotto Così se mi alza il muro Ah no Noi gli diamo più che altro il tempo di alzarlo il muro Va bene Abbiamo disintegrato il tipo Ok muori pure tu Allora intanto liberiamo il drago in questa Stanza Prendiamo tutte le gemme ovviamente E Liberiamo come ti chiami Boldar Questo portale conduce È il druido Dove puoi imparare a volare Ah ricordo quando ero un giovane draghetto Con le mie giovani ali Imparare a volare Adesso non sei molto giovane Allora Volo di Cristallo Sì vabbè ma sarà sempre Volo di urno Volo lonturno Beh Stile Volo di urno Volo lonturno Andiamo di qua stavolta Guarda qua Guarda che è già lì che vuole alzare e spostare il muro Sto pezzo di vecchio Ok 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 questo qui non lo possiamo Aprire facilmente Diciamo che roba ce n'è E dai alzalo Divertiti No Stavo per finire là dentro Ma cosa sei tu? Ah facciamo riprendere un attimo Sparks Qui c'è Sbuffone Sarà il Il boss Qua sotto Non mi pare ci sia niente Lì c'è il nostro amico che ci porta Al mondo successivo Ma direi che per adesso No Allora noi andiamo qua sopra Allora Sì tu mi fai Mi sposti la cosa così No 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 Vabbè vabbè non abbiamo perso vita Dicevo se passassimo di lì Probabilmente mi sposterebbe il muro Mentre Io sto passando Di conseguenza Allora Noi siamo arrivati da lì Da qua sopra Probabilmente planiamo Di là Dall'altra parte Ammazziamo il maghetto 25 Sì mi sembra di sì Oh Questa cosa che dovevo volare sul bordo Allora lì tu Ti aprirai con tipo un fuoco d'artificio Qualche cannone Però dov'è? A saperlo Ok allora Continuiamo Qui c'è vetta del mago Qua dietro non c'è niente No Ok da qui proviamo a volare Ma no non ci arriverà mai Ma no Ma no 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 Sbagliatissimo Eh vabbè Ok Ah per che altro mi manca ancora un bel po' di roba Mi manca un uovo E 35 gemme Mi son perso qualcosa Torniamo indietro allora Quando trovo Vi faccio vedere Ah ma tra l'altro no La piattaforma Che ho visto prima Era all'inizio Quindi A che mi serve? Solo che dov'è il Cannone o cosa Per sparare Ah in qualche modo Devo salire Dove c'è il tipo Con l'uovo Giusto? Deve non cadere di nuovo qua Magari neanche qui Ma cosa? Ma si è fatto colpire così? Bene Molto bene Ma tipo là? Ci si può arrivare? No Eh si Se sbaglio il salto No Dammi la vita Dammi la Cavoli Farfalla blu Allora Ma no Ricordatevi che questi qui Con la roba di metallo Dovete dare una bella testata Forse 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 Mi è venuta in mente Una cosa Che posso provare a fare Ma forse Forse è un'idea stupida però Perché Se Non trovo cannoni Ne chiavi Forse ho pensato una cosa Però adesso vediamo Allora Ma tipo lì? Che non ho guardato Prima Ok Ecco qua la chiave Andiamo a aprire Sto baule Beh Non ha lucchetto Oh mio dio Allora Torniamo Dove ho visto Quella cosa prima E poi Provo a fare L'altra cosa Ancora Praticamente Visto che Sta roba ci da Tanta spinta Non vorrei che Cioè io spero Più che altro Che sia così Che Prendendo la rincorsa Da lì Posso arrivare A Ad aprire Quel baule Allora Intanto Vediamo se Ce la facciamo Al terzo tentativo No Non ce la facciamo Allora Proviamo subito Quella cosa Visto che siamo qua Sì Allora Tipo qua Dai Uh 25 Sì 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 Era così Solo che ci rimangono 10 gemme Sicuramente Saranno In quella piattaforma Che non riesco A raggiungere Dove morirò Malamente Di nuovo No Allora Non ci sarei arrivato Probabilmente Però Cioè per forza Lì Cioè lì C'è una specie Grotta Grotta Ok Direi che per questo video È tutto Lo taglierò tantissimo Perché per trovare Tutto ho girato Parecchio Non so quanto In termini di tempo Però ci ho girato Parecchio Se vi è servito E se vi è piaciuto Lasciate un grande like Lasciate un dislike Se non vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ed attivate la campanellina Così vi arrivano Le notifiche Dei video Che farò Commentate qua sotto E fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao